Inizia con questo video la sezione che penso sia per tutti un po' il vero obiettivo nel seguirne una playlist come questa cioè utilizzare il javascript per modificare in tempo reale, come si dice, i contenuti presentati dal browser in quella pagina web modificandone anche, se serve, gli aspetti stilistici Come ho detto in chiusura dell'ultimo video, ormai avete tutti gli strumenti necessari per poterlo fare E' solo la fine di questa sezione, completerò la playlist con alcuni argomenti di livello avanzato necessari solo se volete affrontare lo studio di framework come React o Angular Allora, quando il browser riceve il codice nella pagina web si costruisce nella RAM un modello che rappresenta la pagina che sta renderizzando E' il modello del documento a oggetti Sì, perché ogni nodo, come quegli element che vedete nel diagramma sulla destra sono degli oggetti Ecco perché è stato così importante affrontare almeno le parti propedeutiche più importanti sulla OP di javascript Ogni browser espone una cosiddetta API, Application Program Interface una serie di comandi, se volete, di metodi che possiamo richiamare e che quindi non sono parte nativa del linguaggio javascript Sono delle estensioni, per fortuna nel tempo la situazione tra diversi browser si è uniformata Per cui oggi abbiamo di fatto un vero e proprio standard stabile che permette di applicare le conoscenze indipendentemente al browser che utilizzerà l'utente finale Che lo si faccia perché l'utente preme un bottone, scrive qualcosa in una casella Riceviamo una risposta da un server Tipicamente quello che poi si va a comandare è la selezione di uno o più dei nodi dell'albero del DOM per farci qualche cosa Cambiare il loro colore del testo, le dimensioni, aggiungere un bordo Nasconderli, riportarli visibili, eliminarli Aggiungerne dei nuovi Sono solo alcuni esempi delle tante cose che potremmo fare Ho qui elencato i principali comandi Sono quasi tutti in realtà Per la selezione nel DOM di un oggetto o di più oggetti Questi sono quelli che restituiranno un solo oggetto Il GetElementByD, ormai lo conosciamo alla perfezione Il QuerySelector, che comunque potrebbe essere utilizzato per agganciare un elemento tramite l'ID È più flessibile, accetta uno schema, un pattern di ricerca Tipo quelli che avremmo utilizzato per la selezione con il CSS Ma è sensibilmente più lento del GetElementByD E allora è quest'ultimo la scelta preferenziale Quando la selezione deve avvenire tramite l'ID Il QuerySelector ci permetterà di formulare un criterio di ricerca più sofisticato Come si diceva E se più elementi del DOM dovessero soddisfarlo Soltanto il primo trovato sarà il riferimento restituito Passiamo a qualche esempio Io vi consiglio di seguirli tutti Anche quelli relativi ai comandi che abbiamo già provato ad usare in precedenza Perché molto probabilmente andrò ad aggiungere qualche dettaglio mai discusso Vediamo allora come assegnare il colore rosso al testo del paragrafo con IDP1 E a impostare la dimensione dello stesso a 35 pixel Se avremo bisogno di lavorare da più punti del codice con lo stesso paragrafo Conviene memorizzare il suo riferimento una volta per tutte in una costante o in una variabile E il principe guida vede preferire la costante Per cui voi partite con const Se poi vi rendete conto di dover modificare il valore Cambiate in let Il comando va impartito in un contesto Cioè da uno dei nodi che fa radice Per una ricerca globale metteremo document Ora possiamo comandare modifiche allo stile Usando la notazione punto E un'omenclatura che trasforma le property tipiche delle regole CSS che usano il meno E che qua verrebbe trainteso Adesso mi spiego Con il CSS avremmo scritto font-size Ma questo mette un po' in difficoltà l'interpreted javascript Perché dal suo punto di vista potrebbe essere l'espressione font-size Il meno e la lettera minuscola si trasforma in una lettera maiuscola font-size Similmente per il colore Se l'elemento cercato non dovesse esistere P3 non è un paragrafo inserito in questo momento nella pagina Il valore restituito dal get element by id sarà null Perciò quando questo rischio Magari perché la pagina è estremamente dinamica Perché permette in vari modi aggiungere e togliere elementi È concreto Proteggiamoci Anche con un banalissimo if Che va a controllare che il riferimento non sia null Poi per casi più sofisticati Ma non abusatene Faremo probabilmente nella sezione avanzata Poi la discussione su questa struttura Potreste usare, dicevo, anche un try-catch Ma ormai siamo un po' svezzati, giusto? Per cui potremmo anche abituarci a questa forma più compatta Che ha anche altri vantaggi Che non si limita ad accorgersi di valori null Ma anche di valori corrispondenti a valori logici falsi nei test E cioè le stringhe vuote Il valore undefined Valori logici false E note number Scontato che nello specificare i valori per le property Possiamo attingere l'intera gamma delle possibilità Potremmo esprimere ad esempio il font size in em O in percentuale E per il colore Specificare la classica terna es decimale In questo caso il blu Ma quali style stiamo modificando in questo modo? Gli stili infatti vengono assimilati sia da fonti esterne Foglie esterne CSS Le regole eventualmente indicate nella sezione style E poi sono gli stili in linea Cioè quelli specificati direttamente nell'elemento come attributo Beh, è molto importante capire e ricordare Che il punto style agisce sugli stili in line, in linea Se non ne teniamo conto Potremmo arrivare a risultati inaspettati Adesso vi mostro un esempio naturalmente Vado prima a impostare qui Un blocco style che aggiungo Una regola che fissa le dimensioni per le immagini Adesso cerco di raddoppiarle Recuperiamo allora il riferimento all'immagine Gli ho messo certamente Non ho fatto vedere prima Questo ID Poi ricopriamo la larghezza attuale Con MG1 Style Width Occhio però che ha il PX Moltiplicarlo per 2 non funzionerebbe poi Col Parsint estraiamo la parte numerica Il 50 del 50 PX Questo almeno è quanto stiamo credendo di fare E la stessa cosa per l'altezza Reimpostiamo la larghezza Moltiplicando per 2 e aggiungendo il PX Stessa cosa per l'altezza Ma il risultato non ci soddisfa Chiaramente non è cambiato nulla Perché? E' quello che vi dicevo prima Con MG1 Style Width Stiamo andando a leggere Gli stili in linea Cioè quelli che avremmo dovuto specificare qua Nell'attributo Style Contro prova Se metto anche qui Larghezza e altezza Adesso si che andremo a leggere queste E il calcolo porta davvero al raddoppio delle dimensioni E anche quando impostiamo Stiamo impostando gli stili in linea Che avranno una priorità maggiore rispetto a tutti gli altri E quindi andiamo a colpo sicuro Effettivamente stiamo imponendo quella larghezza Ma il problema è un passo indietro In che modo possiamo leggere gli stili? In modo da tenere conto di tutti quelli applicati in quel momento a quell'elemento Basta recuperarli con questo comando Window Get Computed Style Questo tiene conto di tutto Eventuali fogli CSS esterni Regole impostate all'azione Style E stili in linea Il parametro da fornire è già l'elemento Ecco perché ho mantenuto comunque la ricerca e la selezione qua E poi l'MG1 l'ho fornito come parametro All Get Computed Style Poi la sintassi per accedere alle diverse regole di stile È la stessa come se questo qua fosse già lo Style Quindi stili MG1.width8 e qualunque altro attributo E adesso tutto funziona E ovviamente ho tolto le regole in line Get Computed Style tiene conto di quelle impostate nella sezione Style come volevamo Per oggi ci fermiamo Ma nel prossimo video dovremo completare la parte sull'impostazione degli stili Ad esempio ci piacerebbe trovare un sistema sicuro Di impostare parecchie regole di stile Senza dover ripetere ogni volta istruzioni tipo queste Cioè fornire semplicemente l'elenco del regolo di stile Un po' come faremmo impostandole nella sezione Style ad esempio E ci sono tra bocchette a cui stare attenti Che di nuovo porterebbero a risultati non palesemente segnalati come errore Ma certamente non quelli che ci aspetteremmo E poi vedere come impostare invece le regole di stile nella sezione Style In modo da applicarli a tutta la pagina A risentirci Grazie Grazie Grazie